Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e in Cisareggello, rallentamenti per traffico intenso in direzione Roma anche sulla 1 direttissima sul versante Emiliano tra il Bivio con la variante di Valico e Badia. In A12, sempre a causa del traffico intenso, code a Rosignano Barriera in direzione Rosignano e rallentamenti tra l'allacciamento con l'A15 e Livorno Barriera in entrambe le direzioni. Un chilometro di coda invece a causa di lavori in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Chiudiamo con i treni per controllo tecnico ai sistemi di bordo il regionale 4117 in Firenze Arezzo viaggia con 31 minuti di ritardo. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!